So che molte di voi pensano che la fabbrica chiuderà. Non possiamo impedire alle male lingue di spargere fiele. Certo, non ci nascondiamo dietro a un dito. Il momento che stiamo attraversando è difficile. La congiuntura negativa, l'euro troppo forte, è comprensibile che abbiate il morale sotto le scarpe. Ma la nostra azienda, la vostra azienda, ha sempre saputo far fronte alle avversità. E allora pieghiamo ancora una volta la schiena, lasciamo che passi il temporale e soprattutto non vi preoccupate. Avete saputo rinunciare alle 35 ore, avete saputo rinunciare agli aumenti di salario, avete saputo rinunciare ai buoni pasto e allora oggi non rinunciate al regalo che vi fa l'azienda. Fabien? Eh sì, non state sognando, sono dei camici nuovi. Questi camici sono il simbolo del rinnovamento. E per di più c'è il vostro nome sopra. Come vedete, un grande gruppo internazionale, troppo spesso denigrato, può avere anche delle piccole attenzioni. Allora, amiche mie, non date retta a quelli che vedono tutto nero. Battetevi! Dimostrate alla concorrenza che siete decise a lottare. E non scordate che i vostri piccoli problemi visti dalla luna sono sciocchezze. Non ringraziate, non è il caso. Ti ha mai visto un bambino stringere la mano a Babbo Natale? Forza, 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 Fabien!